Se hai meno di 30 anni probabilmente ti sarai chiesto qual è il miglior lavoro da fare a questa età. Scegliere il lavoro che paga di più oppure seguire la propria passione, andare in una grande azienda oppure andare in una piccola media azienda. Allora se hai meno di 30 anni il concetto di base e ripeto il concetto di base è uno, devi imparare a fare qualcosa. Se io ti chiedessi ora cosa sai fare, dimmi nello specifico che lavoro potresti fare, che ruolo potresti ricoprire all'interno di un'azienda X. Probabilmente la tua risposta è mi sono laureato in, ho visto questo argomento all'interno di questo esame, ho visto quest'altro argomento all'interno di quest'altro esame. Però all'atto pratico cosa sai fare, quali programmi sai utilizzare, cosa potresti portare in un'ipotetica azienda, che cosa sai fare proprio all'atto pratico. Se queste domande ti stanno mettendo in difficoltà è proprio questo il punto. Il primo punto è trova un lavoro quindi un'azienda che ti permetta di imparare davvero a fare qualcosa. E quando dico imparare davvero a fare qualcosa, vuol dire entrare in un'azienda e grazie alle competenze di base che hai ottenuto grazie alla tua laurea, quindi la laurea non è che da buttare via. Ti sei laureato, complimenti, magari ti sei semplicemente diplomato, complimenti, perfetto, hai delle competenze di base, hai un'infarinatura generale su molti argomenti, entri in un'azienda e impara a fare qualcosa. Se scegli un lavoro piuttosto che un altro, giusto perché ti dà 200 euro in più, a meno che tu non ne abbia davvero bisogno, e dico davvero bisogno non perché ti serve un nuovo paio di scarpe da 200 euro, perché non ne hai davvero bisogno in quel caso. Se ne hai davvero bisogno ha senso, altrimenti ha mille volte più senso andare in un'azienda dove ti pagano 200, 300 euro in meno, però impari davvero a fare qualcosa. E adesso ti do un esempio pratico per capire questo concetto. Se tu entri in un'azienda X che ti dà questi 300 euro in più al mese, perfetto, e ci lavori per 10 anni, passi magari dai 20 a 30 anni all'interno di questa azienda, una volta che metti caso, esci da questa azienda, tu cosa sai fare? Niente. Perché magari per 10 anni hai fatto e rifatto e rifatto la stessa mansione, magari con qualcosa di semplice del tipo Excel. Hai fatto, rifatto, rifatto, la stessa mansione, prendi, copia, incolla, fai, scancra, eccetera, eccetera. Niente di importante, non hai nessuna competenza, sei arrivato a 30 anni, perfetto, non sei più giovane, non hai niente alla mano se non una laurea presa 10 anni prima, quindi ok, e non sai fare niente. A quel punto chi ti prende? Hai 30 anni, 35 anni? Hai esperienza? Sì, ma che esperienza è? Questa cosa che tu sai fare, ossia copia, incolla, prendi un file, spostano, invia delle mail, eccetera, eccetera, sì, è un'esperienza, ma l'atto pratico, non sai fare niente. Qualunque altra persona, anche non laureata o magari laureata, può essere presa al tuo posto e può imparare la tua stessa identica mansione in una settimana, due settimane, tre settimane. Quindi, prima domanda, che ruolo vado a ricoprire all'interno dell'azienda? Cosa vado ad imparare? Quale sarà la mia mansione principale? Seconda domanda, come posso utilizzare queste competenze che sto imparando? Altrove, perché l'opzione di cambiare azienda c'è, metti caso quell'azienda dopo un anno, dopo due anni, chiude. Tu dove vai? Hai imparato qualcosa? Come puoi utilizzare queste cose che hai imparato? Terza domanda, posso permettermi questo lavoro senza morire di fame? È importante questo concetto, perché se vivete con i vostri genitori, se siete messi abbastanza bene economicamente, 200, 300, 400 euro in meno, magari a 20, 22, 24, 25 anni, potrebbero non essere un problema, anzi, un'opportunità. Al contrario, potrebbero essere un qualcosa che vi taglia le gambe se per 200, 300, 400 euro scegliete un ambiente che vi lascia lì per tutta la vita. Arriviamo quindi al punto 2. Scegli un lavoro che ti dia la possibilità di crescere. Allora, inizialmente non è così importante che all'interno dell'azienda si possa crescere a livello gerarchico, perché il primo anno, come abbiamo detto, la cosa più importante è imparare a fare qualcosa. Ottimo? Hai imparato a fare qualcosa? Perfetto. A questo punto, però, è importante crescere. Quindi, primo anno, impari. Poi, dopo che hai imparato, devi crescere all'interno dell'azienda, perché se all'interno dell'azienda non c'è la possibilità di crescere, e ci sono molte aziende dove inizi a fare quello e finisci a fare quello, perché è così, punto, non ti dà la possibilità di salire di livello di volta in volta, ok, ci sono gli scatti di anzianità, ma stai comunque facendo quello. E questo potrebbe essere un problema a lungo termine, perché a 20 anni, prendere magari 1.300, 1.400, 1.500, può andarti bene. Però, a 40, con il doppio delle responsabilità, con, diciamo, un potere d'acquisto che andrà abbassandosi sempre di più, non è al massimo continuare a fare sempre la stessa mansione, sempre lo stesso lavoro per una ditta che in realtà ti sta garantendo poco e nulla. Quindi, inizia a lavorare, impara a fare qualcosa, e se vedi che all'interno dell'azienda non c'è la possibilità di crescere, cambia azienda. Terzo punto, cerca un ambiente lavorativo dove puoi farti tante conoscenze e crearti tanti agganci. Questo è un consiglio che vale oro, non sto scherzando, oro. Dovete conoscere gente nel vostro settore, è fondamentale. E voi vi chiederete, ma perché devo conoscere gente? Perché devo farmi notare dal mio superiore? Perché devo farmi notare dall'imprenditore di turno? Perché devo farmi notare dal fornitore di turno? È molto semplice. Il miglior curriculum che voi possiate avere è il passaparola. Se, ad esempio, due imprenditori, due colleghi di alto livello, quindi, diciamo, dei responsabili, parlano tra di loro. Sai che io ho bisogno di uno che mi gestisca l'amministrazione? Sai che io ho bisogno di un vice direttore marketing? Sai che io ho bisogno di... Sai che io conosco un ragazzo che ha lavorato con noi qualche anno fa? Sai che io conosco un ragazzo col quale mi sento via mail, col quale ho lavorato, il quale è un nostro cliente, eccetera, 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 che è molto bravo e che però te lo consiglio a questo punto. Magari gli gira il numero di telefono, gli gira il nome e cognome, gli gira il profilo LinkedIn, gli gira qualcosa. Questa persona ti contatta e tu ti sei trovato un lavoro che non avresti mai trovato nel suo InfoJob, nel suo LinkedIn, da nessuna parte. Non esistono questi lavori qua, non esistono. Sono lavori di alto livello che passano via passaparola. Quindi il consiglio del consiglio che va letto tra le righe è impara a venderti. Devi essere capace a venderti. È fondamentale. Perché io devo farti capire chi sono e quanto valgo. Una volta che tu lo sai, tu andrai a dirlo a tutte le persone che conosci. E tutte quelle persone, anche se non mi conoscono, è come se mi conoscessero. Parliamo poi di un'altra cosa molto, molto, molto importante. Niente anni sabbatici. Non esiste, mi prendo un mese, due mesi, tre anni per pensare. Ma pensare a cosa? Lavori nel mentre fai, vedi. Nel mentre vedi, realizzi. E nel mentre pensi e poi cambi. Non esiste che stai a casa, ti svegli a mezzogiorno perché devi pensare. Pensare a cosa? Devi pensare? C'hai il weekend per pensare, c'hai la sera per pensare, c'hai tutto il giorno per pensare. Non è che non lavori. Se non lavori è perché non hai voglia di lavorare. Ok? Stai studiando, ci può stare. Però io consiglio di fare anche dei lavoretti durante l'università. Però fatto sta che ti devi muovere. Non esiste che non fai niente nella vita. Perché? Così. Ci facciamo mantenere dei nostri genitori. Ma ti rendi conto? Ti rendi conto che tu da 20enne, 21enne, 25enne ti stai facendo mantenere dei tuoi genitori? Perché per 25 anni hai fatto dei sacrifici? Sei ancora lì che ti fai mantenere? Basta. No. Quindi per concludere, se hai la possibilità di lasciare sul piatto 200, 300, 400 euro per imparare a fare davvero qualcosa, fallo. Queste diciamo sono le linee guida che secondo me vanno rispettate dai 20 ai 30 anni. Perché è un attimo, e vi dico è un attimo, passare dal giovane appena laureato al 30enne, 35enne senza esperienza che si è laureato 10 anni fa. Quindi è un attimo, bisogna costruirsi un futuro dai 20 ai 30 anni. E la domanda di base è cosa sai fare? Dettoci ragazzi il video è giunto al termine. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E io vi lascio qui il video del lavoro che faccio io. Perché giustamente molti mi chiedono ancora che lavoro fai? Ho fatto un vlog dove vi racconto nel dettaglio cosa faccio, come lo faccio, gli orari che faccio, eccetera eccetera. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Bye bye. Bye.